Ciao a tutti, sono Irene, ricercatrice del progetto Leggere Forte e in questo momento un po' particolare per tutti abbiamo deciso di starvi accanto leggendo qualcosa per voi. Oggi leggeremo A Tavola con la collaborazione del bambino, del lupo e del nostro orco. A Tavola, arrivo. Mangia la minestra, è buonissima. Non mi piace la minestra. Assaggiala almeno. Non ho fame. Fai un piccolo sforzo. Sono stanco. Se non mangi sarà il lupo a mangiare te. Non ci credo. Vedrai. Conto fino a tre. Uno, due, tre. Lupo, a tavola. Lupo, mangia questo bambino. Non mi piacciono i bambini. Dai, fai un piccolo sforzo. Sono stanco. Ma se non mangi sarà l'orco a mangiare te. Ma se nemmeno esiste. È quello che pensi tu. Adesso conto fino a tre. Uno, due, tre. Orco, a tavola. Che buon profumino c'è qui. Orco, mangia questo lupo. Non mi piacciono i lupi. Assaggialo almeno. Non ho fame. Un piccolo sforzo. Sono stanco. Invece, mangerei volentieri questa minestra. Ehi! Questa è la mia minestra. E me la mangio io. Gnam! Abbiamo letto a tavola di Michele Scoffier e Mattie Modè. Edizione Babalibri. Grazie a tutti.